Quale viene dalla prefettura dove c'è stato il comitato per l'ordine e la sicurezza? Ci può dire come è andata, se sono state adottate misure particolari? Due punti in particolare. La prima ho presentato insieme all'assessore Clemente la bozza finale di ordinanza sulla Movida che sarà da me firmata venerdì mattina e quindi entra in vigore da venerdì. Una bozza, un lavoro molto importante che tiene conto delle osservazioni di questi mesi, delle esperienze della prima ordinanza e un lavoro che tiene conto poi soprattutto delle riflessioni fatte in sede di comitato col prefetto e con i vertici delle forze dell'ordine. Credo che si è fatto un lavoro davvero positivo che è stato apprezzato da tutti. E poi si è discusso in particolare della recrudescenza criminale in alcune zone della città e gli interventi che sempre di più le forze di pulizia stanno mettendo in campo per la parte di loro competenza. Penso in particolare a San Giovanni, ma non si è parlato solo di San Giovanni, si è parlato di Vasto, si è parlato anche degli ultimi episodi da Rione Traiano a Pietro Collette ed altri. Il tema poi è anche quello che ho posto ieri al Ministro dell'Interno. Se si vogliono concretamente evitare questi episodi e alzare il livello di sicurezza del nostro Paese bisogna aumentare il potenziale di presenza qualitativo e quantitativo delle forze di pulizia nel nostro Paese, altrimenti il resto diventa pura propaganda e demagogia.